Vengono delle richieste concrete dal nostro territorio e in particolar modo dalle associazioni di categoria ma che sono state supportate anche dall'organizzazione sindacale, ossia una scelera di convocazione unitaria del tavolo della moda, il cogliere le specificità del Valdarno perché magari i codici a te a volte non danno la rappresentazione di quella che è la realtà dei fatti. Qui c'è una filiera produttiva completa del settore moda che occupa tantissimi nostri concittadini. In Valdarno un addetto su quattro lavora nella filiera che rappresenta il motore trainante dell'economia della vallata. Il comparto della moda oggi è finito nuovamente sotto i riflettori per cercare soluzioni che possano scongiurare il peggio. Nella sala consigliare di Terranuova Brecciolini un nuovo incontro tra istituzioni, sindacati e associazioni di categoria presenta anche la regione toscana. Dal nostro punto di vista abbiamo raccolto l'invito alla riconvocazione del tavolo regionale della moda che però avrà una sua reale efficacia nel promuovere strumenti per tornare ad investire, per la capacità di interpretare il tessuto toscano che è rappresentato benissimo anche dal sistema distrettuale del Valdarno. Proprio perché attorno a quelle difficoltà che sono strutturali si possa anche trovare la strada che riposiziona nel nuovo sistema di consumo internazionale anche le nostre industrie. Un confronto alla luce della recente introduzione di una cassa integrazione in deroga per le piccole imprese della filiera poi esteso alle varie difficoltà che riguardano il comparto. È stato previsto un ammortizzatore sociale che però si rivolge solo alle aziende con meno di 15 dipendenti e terminerebbe il 31-12 di quest'anno. Noi riteniamo che questo non sia assolutamente sufficiente, quindi già nei prossimi giorni avanzeremo una richiesta di modifica, di emendamento che prolunghi la durata di questo ammortizzatore specifico per il settore moda anche per il 2025 perché temiamo, ci auguriamo di essere smentiti, ma temiamo che la crisi non si risolverà alla fine di quest'anno. Inoltre fin da subito avevamo chiesto anche di rifinanziare e prorogare quelle che sono le misure previste per le aziende sopra i 15 dipendenti. Sì, la cassa integrazione in deroga sicuramente è uno strumento per affrontare l'emergenza ma come ribadiva l'associazione in categoria tutti dobbiamo fare pressione sui livelli apicali perché le banche devono fare la loro parte perché c'è bisogno di liquidità rispetto a aziende che stanno attraversando momenti di difficoltà per supportarle. Questo è sicuramente lo strumento concreto più urgente e più impellente invece nel medio-lungo periodo. Ribadiamo la necessità del cosiddetto passaporto digitale perché permette effettivamente di avere contezza di qual è l'intera filiera produttiva e di adottare degli strumenti concreti per poterla tutelare nella maniera più adeguata.